Il tutto nasce da una questione tecnica, una problematica tecnica che ha portato a una sovrapposizione di due concessioni. La concessione che ha avuto l'assonautica che andava a cadere proprio nell'area interessata dei pescatori. Questo ha creato ovviamente problemi, paure anche da parte di una realtà importante, quale quella della pesca. E quindi abbiamo deciso, insieme al Comune, insieme all'Associazione dei Pescatori, insieme all'assonautica, insieme anche alla Capitaneria di Porto, che ringrazio, di vederci oggi qua in provincia fare un punto e vedere dove intervenire per superare i problemi. Partendo però da un principio che abbiamo condiviso tutto e mi fa molto piacere che sia stato condiviso. Lì ci sono da diversi anni pescatori. Già la Regione Liguria negli anni passati, ma anche il Comune d'Imperia negli anni passati, hanno investito verso uno sviluppo della pesca nel porto di Oneglia. Questo principio deve essere assolutamente mantenuto. Quindi neanche una barca di pesca deve essere messa in condizioni difficili di lavorare. Si parla di più di 100 posti di lavoro e per Imperia, per la Liguria, sono una realtà fondamentale ed importante. Dall'altra parte c'è Assonautica. Assonautica ha avuto una concessione, l'ha avuta nella legittimità più assoluta, l'ha avuta senza aver tolto niente a nessuno, facendo gli atti legittimi che si devono fare in questi frangenti con un obiettivo di fare belli interventi nel porto e quindi di alimentare la propria attività che è importante. E quindi sicuramente anche Assonautica ha la sua legittimità. Bisogna trovare un quadro delle cose. Oggi abbiamo messo un passo importante che è quello di dire partiamo da soluzioni tecniche che prevedono la condivisione degli spazi, partendo dal fatto che gli spazi adesso in capo ai pescatori rimangono in capo ai pescatori e si possano trovare soluzioni limitrofe che possano ovviamente andare incontro alle esigenze di Assonautica. Dal primo giorno abbiamo segnalato anche noi che la realtà del mondo ittico che vede nel porto di Oneglia il principale porto pesca della Liguria e uno dei principali in Italia, in crescita perché grazie agli investimenti fatti in passato da regione e comune c'è anche chi sta spostando e investendo nell'attività della pesca. Quindi vogliamo assolutamente tutelare il comparto pesca lasciando che le attività istituzionali di Assonautica laddove possibile possano svilupparsi. Il progetto era questo, c'è stato un qui pro quo da un punto di vista tecnico e correttamente dico io, ringrazio l'assessore Scaiola che è qui con noi a lavorare con noi su questo tema. Bisogna vedere appunto cosa sarà al seguito perché per il momento c'è il passo indietro di Assonautica. No, c'è il passo indietro rispetto al vecchio progetto, la proposta della riduzione di un posto barca per poter inserire, per poter non sovrapporsi al comparto pesca. Quindi l'assessore Scaiola ci sarà la possibilità di salvare sia le istanze di Assonautica che quelle dei pescatori e di trovare la quadra in qualche modo secondo lei? Assolutamente le possibilità ci sono. Ora, tecnicamente ci sarà anche un confronto con la Capitaneria di Porto che è stata estremamente utile la sua presenza per quelle che sono le valutazioni più estremamente tecniche anche dei movimenti delle barche all'interno del porto. Vediamo se c'è la possibilità. Noi pensiamo di sì, però è ovvio che, ripeto, qualsiasi soluzione non deve mettere in difficoltà l'attività dei pescatori che è tuttora esistente nel porto di Doneglia.